Facebook e di Instagram eccetera, dopo vi farò vedere il link. Allora, durante il primo incontro che è stato due mercoledì fa, abbiamo già fatto un'introduzione breve su quella che è l'intelligenza artificiale, quindi per chi di voi c'era, non so se si ricorda come funziona l'apprendimento e come non funziona. Se volete potete trovare tutte le registrazioni sul canale YouTube. Oggi invece andiamo a vedere quelle che sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale al mondo della scienza e tra due settimane invece ci sarà un incontro che parlerà di come applicare invece l'intelligenza artificiale a discipline umanistiche. Quindi diciamo che cerchiamo di coprire un po' tutti gli ambiti possibili. Ecco qua i siti di cui vi parlavo prima, quindi se avete dubbi di qualsiasi tipo potete scrivere a questa mail o potete andare nel nostro sito, ci potete trovare anche su Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, insomma un po' dappertutto. Andiamo a vedere bene che cosa faremo oggi. Quindi oggi abbiamo parlato di intelligenza artificiale per la scienza e il primo ospite che parlerà sarà Sebastiano Saccani che è il fondatore responsabile di una start-up che si trova nell'IAS Science Park che è Indo e dopodiché avremo Martina Teruzzi che è una ricercatrice presso la SIS, la scuola internazionale conosciuta per la fisica diciamo sostanzialmente e infine avremo il professor Giulio Caravagna che è un professore presso l'Università di Trieste che si occupa principalmente di intelligenza artificiale legata al cancro sostanzialmente, alla medicina. Quindi senza ulteriori indugi direi di far dar la parola al primo ospite che è qua. Grazie a tutti. Io sono Sebastiano Saccani, sono tra i fondatori di questa start-up che si chiama Indo è una start-up basata a Trieste, come dicevo prima siamo in Area Science Park siamo una start-up della Sissa e ci occupiamo un po' di portare il machine learning nel mondo delle aziende. quello che volevo fare stasera è parlare di alcuni trend all'interno del machine learning e un po' come si connettono con il lavoro che stiamo facendo. Parlo di questi trend perché insomma secondo me sono interessanti e sono in un ambito divulgativo potrebbero magari interessarvi, spero. Vado su, vado giù? Vado giù? No? Ok, ok, perfetto. Allora partiamo dalle basi, so che molti di voi già lo sanno ma insomma giusto per settare una base comune terminologia, intelligenza artificiale diciamo sono tutte quelle tecniche che danno alle macchine dei comportamenti o delle prestazioni che in qualche maniera noi attribuiremmo a una persona quindi diciamo un termine cappello che non identifica in maniera precisa nessun tipo di algoritmo né nessun tipo di tecnica si può fare intelligenza artificiale in tanti modi programmando esplicitamente o con altre tecniche noi ci occupiamo soprattutto di machine learning questo si fa riferimento a tutta una serie di tecniche il machine learning è diciamo alla base un po' dell'evoluzione moderna dell'intelligenza artificiale e la sua caratteristica fondamentale è che con il machine learning si costruiscono degli algoritmi che imparano dei dati quindi è sempre fondamentale il dato per la costruzione di algoritmi uno dei paradigmi proprio base base diciamo del supervised learning ripeto molti di voi sono già tutto di questo ma mi perdonerete per un minuto è diciamo l'algoritmo classico del machine learning è il supervised learning in cui la macchina impara da coppie di input e output cioè i miei x sono i miei input i miei y sono gli output e voglio costruire un algoritmo una funzione diciamo che prenda i miei x e mi restituisca gli y desiderati questo diciamo necessita che qualcuno tipicamente un umano associ i miei y ai miei x ora detto così magari non si capisce niente provo a fare un esempio con cui sarò più chiaro il più classico dei problemi di machine learning è la classificazione di immagini quindi supponiamo di voler costruire un algoritmo che sia in grado di riconoscere il contenuto di un'immagine la procedura standard è quella di raccogliere un gran numero di immagini e a delle persone che diciamo fanno un'etichettatura manuale andranno a per ognuna immagine di questo grosso data stiamo parlando di alcune migliaia decine di migliaia di immagini anche molto di più va ad associare per esempio l'output che vogliamo che potrebbe essere una stringa che indica che cosa c'è in quell'output quindi scimmia cane gatto come in questo esempio poi come magari vi avevano spiegato nella precedente sessione tutti questi dati di esempio tramite un processo chiamato training allenano il mio modello non entro nei dettagli in questo poco tempo che abbiamo e se tutto è andato come sperato avremo poi alla fine un algoritmo che dato una nuova istanza di immagine sarà in grado di dare la risposta corretta quindi ho creato un algoritmo che è in grado di riconoscere il contenuto di un'immagine un altro esempio di supervised learning supponiamo il traduttore quello che abbiamo nel cellulare insomma a cui Google vi dà accesso tramite il cellulare è fondato anch'esso sul supervised learning o almeno lo era diciamo originariamente adesso magari la situazione è un po' più complicata quindi è basato sostanzialmente su coppie di frasi supponiamo che dobbiamo tradurre dall'inglese all'italiano su coppie di frasi una in inglese e l'altra in italiano e questi sono dei dataset che devono essere curati manualmente cioè si chiamano dataset paralleli fondamentalmente e questi appunto devono essere curati manualmente tipicamente per queste cose si usano non so ad esempio i documenti dell'Unione Europea che sono tutti tradotti in varie lingue e quindi permettono di avere questo dataset parallelo in ogni caso l'annotazione del dataset è fondamentale per questo tipo di algoritmi ed è un processo molto costoso tant'è vero che esistono delle aziende che fanno annotazione manuale è un business ed è fondamentale per molte realtà avere un dataset annotato superiore dei competitor per poter avere un edge competitivo nella performance dei loro algoritmi tipicamente viene fatto anche nei paesi in via di sviluppo visto che costa molto meno la mano d'opera diciamo che questo è un po' l'approccio standard se vogliamo ultimamente però si stanno presentando gli approcci che superano se vogliamo la necessità di annotazione il cosiddetto self supervised learning apprendimento auto supervisionato in italiano in realtà in italiano non si dice mai c'è sempre self supervised learning anche per noi in questo caso non abbiamo più una mia Y ma di fatto quello che voglio fare è dato un set di dati voglio nascondere una parte dell'input e farlo diventare il mio output quindi voglio che dall'input che la macchina riesce a vedere possa capire qual è l'output che ho nascosto anche qui diciamo detto così non si capisce magari molto ma con un esempio diventa abbastanza chiaro supponiamo per esempio di voler fare un sistema che dato un'immagine un pezzo di immagine coperta che in questo caso è insomma questo ritaglio bianco sia in grado di andare a ricostruire quello che c'era all'interno dell'immagine allora questo dataset lo posso costruire senza diciamo annotazione manuale perché posso diciamo recuperare da internet una grande quantità di immagini insomma che sono liberamente disponibili e poi con un altro algoritmo andare a tagliare le immagini diciamo in maniera casuale in qualche maniera e costruirmi questo dataset diciamo di input e output desiderati così facendo io posso allenare un algoritmo a completare le immagini senza bisogno di avere fatto annotazione manuale quindi per esempio cosa posso fare con questo algoritmo posso diciamo eliminare delle componenti all'interno di un'immagine questo è un paper dell'invidia e qui diciamo c'è un'immagine originale in cui voglio andare a eliminare alcuni elementi come un sasso c'è anche un puntatore mi dicevano grazie ecco un sasso un paletto insomma un campo in cui stiamo facendo qualche lavoro e questo algoritmo una volta che è allenato vado a mascherare le zone che voglio eliminare e l'algoritmo a questo punto cosa fa? cerca di riempire il meglio che può quello spazio mancante e quindi diciamo presuppone che non ci sia niente e quindi di fatto elimina gli oggetti da un'immagine tra l'altro questa è anche una applicazione commerciale in photoshop trovate delle cose di questo tipo per cui se volete eliminare l'ex moroso dalle vecchie foto adesso potete potete farlo grazie a questi grazie a questi algoritmi un esempio diciamo che ha fatto abbastanza scalpo diciamo faccio un passo indietro un altro tipo di supervised learning di questo tipo quindi self supervised è quello in cui il cosiddetto masked language modeling cioè quello in cui io vado a prendere del testo vado a cancellare una parte del testo in questo caso l'ultima parola e chiedo all'algoritmo di completare completare la frase chiaramente anche questo è facile ottenere del dataset di questo tipo perché vado su internet in cui di testo disponibile ce n'è quanto ne voglio posso tirare giù l'intera wikipedia prendo ogni frase e vado a fare mascheratura e quindi posso fare imparare alla macchina molto efficacemente come per esempio completare le frasi questo diciamo è un po' banale ma se noi usando veramente grosse grosse quantità di testo anche modelli molto molto complessi naturalmente non sono limitato a indovinare la parola successiva ma dato la parola successiva posso indovinare la successiva e così dicendo quindi posso far scrivere di fatto alla mia macchina allora questo qui è un modello questo è molto famoso GPT-3 di OpenAI in questo caso vi ho dato questa frase Trieste è il capoluogo del Friuli Venezia Giulia in verde è quello che poi ha scritto il modello quindi Trieste è il capoluogo del Friuli Venezia Giulia la città si è dotta sul mare a Triate con una popolazione di circa 204.000 abitanti del centro economico commerciale e culturale della regione quindi insomma ha letto molto testo ha capito tante cose sa anche quanto è grande Trieste e mi sputa fuori diciamo una frase che è perfettamente coerente e tra l'altro insomma è decisamente potrebbe averla scritta sicuramente un umano si possono fare altre cose di fatto si possono fare mille cose ci sono mille applicazioni di questo di questo GPT-3 questo era proprio banale gli chiedo di scrivere una ricetta con le uova e la pancetta ma lui mi scrive questa ricetta che direi grosso modo è una frittata non sarà una grande ricetta ma insomma comunque ha un senso cosa più interessante magari è che posso sostituire quello che era un dataset annotato e fare delle operazioni che prima dovevo fare annotando manualmente il dataset in maniera completamente non supervisionata cioè a questo punto io posso anche chiedere a GPT-3 di tradurre in italiano translate this into Italian what rooms do you have available e lui mi risponde con quali sono le camere disponibili quindi lui ha imparato a tradurre dall'inglese senza bisogno di un dataset parallelo e quindi senza bisogno di annotazione manuale quindi diciamo dal punto di vista economico per chi sviluppa questo tipo di algoritmi è sicuramente un grosso un grosso più quindi diciamo abbiamo questi due questi due paradigmi questo del supervised learning in cui comunque c'è un umano diciamo nel 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 training della macchina cioè qualcuno deve annotare il dataset e questo ha un aspetto costoso diciamo un un costo che è economicamente importante e poi questo altro paradigma che direi si sta affermando adesso forse comunque sicuramente si sta diffondendo molto in quello in cui invece diciamo la macchina osservando una serie di dati di fatto osservando in qualche maniera la realtà in molti casi impara a imitarla in questo un po' diciamo il il senso del titolo che ho dato a questo intervento cioè è semplicemente un'osservazione dei dati che sto dando alla macchina e sulla base di osservazione fatta in maniera particolare di quello che gli sto fornendo lui sta lui inferisce diciamo tutta una serie di proprietà per esempio del testo quindi essendo in grado di completarlo oppure delle immagini quindi essendo in grado di completare le immagini e così via e questo diciamo è un paradigma molto interessante e anche noi diciamo come azienda stiamo cercando di andare stiamo cercando di andare in questa direzione un caso un po' estremo diciamo di questo tipo di modelli diciamo non è conseguente dal punto di vista storico in realtà questi nascono se vogliamo anche primo comunque sono contemporanei è quello in cui diciamo tutto il mio il mio dataset è il mio output diciamo non c'è più una divisione tra non divido più in due il mio dataset cioè cerco di inferire una parte rispetto all'altra ma voglio costruire tutto l'input anche qui diciamo detto così non si capisce niente però quello che voglio fare è sostanzialmente dare in pasto alla macchina di immagini di gatti e quello che voglio che la macchina faccia è costruire dei nuovi gatti o meglio nuove immagini di gatti che non siano diciamo tra quelle che erano originariamente nel dataset cioè non ha imparato memoria qualche immagine ma che siano diverse ma che siano realistiche allora io mi lancerò visto che è interessante nell'unica descrizione di algoritmo che farò stasera ci provo non so se ci riuscirò comunque soprattutto perché è molto interessante questa realtà di qualche anno fa ormai però diciamo è uno dei più affascinanti secondo me gli algoritmi che ci sono adesso per la generazione di immagini per esempio qui si compone di due componenti un algoritmo diciamo che genera immagini che quindi cerca di generare immagini realistiche e un altro componente che cerca invece di capire se le immagini generate sono cerca di distinguere perdon delle immagini generate dal generatore da delle immagini reali che per esempio erano immagini reali erano il mio dataset che gli avevo dato gli avevo dato in input di fatto diciamo si crea una competizione tra questi due agenti e nel corso del training quello che succede è che il discriminatore cerca di diventare sempre più abile nel discriminare le immagini generate da quelle reali e il generatore cerca di generare immagini sempre più realistiche e quindi diciamo ingannare in qualche maniera il discriminatore si crea di fatto una competizione tra questi due tra questi due algoritmi che diciamo la cui metafora è quella del falsario e quella del poliziotto l'obiettivo del generatore che in questo caso è il falsario è quello di costruire delle banconote se vogliamo che sono sempre più simili alle banconote vere in modo che non possono essere distinte da quelle false l'obiettivo del poliziotto è migliorare sempre di più le capacità di distinguere le banconote vere dalle banconote false e quindi in questa diciamo competizione questa guerra diciamo tra questi due tra questi due agenti quello che succede è che il falsario diventerà sempre più bravo a creare banconote false e il poliziotto invece diventerà sempre più bravo a distinguere le banconote false da quelle vere ora questo tipo di algoritmo che ovviamente ho descritto in maniera assolutamente a volo d'uccello diciamo così è stato applicato appunto alla generazione di immagini questo era i risultati che si ottenevano nel 2014 questo è l'articolo originale di Goodfellow in cui stanno cercando di riprodurre evidentemente immagini in bianco e nero di volti questo diciamo è il risultato recente in realtà non è più tanto recente perché è il 2019 comunque queste sono immagini generate di persone non sono immagini vere quindi queste persone non esistono c'è anche il sito this person does not exist che appunto in cui fanno premete F5 tutte le volte vi generano una nuova persona che di fatto è difficile distinguere il fatto che sia una persona non reale se non magari dallo sfondo a volte si capisce dal fatto che magari ha l'orchino a destra o a sinistra cose di questo tipo ma di fatto sono perfettamente realistiche ora la cosa che interessa diciamo a noi come azienda di questo tipo di tecniche è che le persone che sono raffigurate in queste immagini sono perfettamente realistiche cioè se io andassi a misurare non so la distanza degli occhi facessi la distanza degli occhi delle persone generate all'interno di questo dataset finto troverei delle risposte realistiche cioè troverei più o meno le stesse risposte che troverei anche nel dataset reale anche se non so vado a contare quante persone hanno gli occhiali rispetto a quanti non le hanno ritrovo le stesse statistiche allo stesso tempo se io do a una persona una serie di immagini di questo tipo non ho nessuna maniera di sapere se io per esempio ero nel dataset di training cioè non c'è maniera di ricostruire quali erano i volti che originariamente sono entrati nel training o comunque c'è pochissima informazione rimasta su un singolo volto all'interno del dataset quindi quello che abbiamo pensato di fare noi come azienda ho sbagliato di nuovo verso è applicare lo stesso tipo di tecniche ma invece che applicarlo alle macchine scusate alle immagini lo applichiamo ai dataset relazionali cosa sono i dataset relazionali? sono i tipici dataset database diciamo in cui le vostre informazioni sono salvate in banche assicurazioni ospedali di solito i dati sono salvati in tabelle che in qualche maniera sono collegate l'una con l'altra quindi quello che vogliamo fare noi quello che già facciamo in realtà è usiamo le stesse tecniche del machine learning quindi i modelli generativi ma non generiamo immagini ma generiamo record di database quindi creiamo dei record fasulli delle persone fasulle all'interno di questi database che però si comportano come persone come persone reali quindi se io vado ad analizzare poi questi database sintetici ottengo delle risposte che sono simili a quelle che otterrei sul dataset originale ma allo stesso tempo pubblicare un dataset di questo tipo non fornisce informazioni sulle persone sulle singole persone quantomeno che erano all'interno del dataset cioè per esempio se uno ha fatto un accesso al pronto soccorso io posso generare diciamo lo storico degli accessi al pronto soccorso che so io di Cattinara faccio la sintesi di questi accessi al pronto soccorso non sarà più possibile sapere se io originariamente ero all'interno dei dati del pronto soccorso però una persona che dovesse analizzare questi dati può comunque analizzare i dati di accesso al pronto soccorso per quanto sintetizzati per fare analisi di tipo statistico quindi capire non so qual è l'età media qual è il tipo di patologia che fa più accessi cose di questo tipo potrebbe farlo anche con il data sintetico quindi noi diciamo ad Aindo lo che stiamo facendo è questo stiamo cercando di sviluppare questa tecnologia per scambio di informazione statistica che è però privacy rispettosa della privacy e quindi abbiamo ricevuto anche un investimento insomma quest'autunno per lo sviluppo di questa tecnologia chiudo con una breve marchetta su di noi brevissima noi siamo appunto nati nel 2018 esistiamo quindi da 4 anni che è già una sorpresa 4 anni esistiamo ancora e quello che abbiamo fatto quello che facciamo sostanzialmente è portare i metodi del machine learning all'interno dell'azienda con un po' di focus sul diciamo un po' più di rigore scientifico di magari quello che si potrebbe trovare in altre aziende e con un occhio anche alle tecniche moderne e insomma rimanere un po' sulla cresta dell'onda diciamo così almeno dal punto di vista delle tecniche ho fatto 20 minuti precisi quindi vi ringrazio e rimango per le domande applausi 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 io ho una domanda allora stiamo parlando di un machine learning che si può molto più di un'altra e in un cittadino si può andare a segno di dati per pensare on now che si è cambiata però l'auto potrebbe essere l'auto generale potrebbe essere quello che si fa dopo in questione potrebbe essere anche che la macchina generale un'auto per si diciamo ovviamente quando si allenano questi algoritmi non si hanno garanzie sul risultato però ci sono tutta una serie di tecniche per verificare in certo modo la performance del mio algoritmo sostanzialmente si ci sono esempi tipici la mia domanda e invece a voi quando fate questo anno immettete questi dati avete in mente questo processo che si può realizzare questa situazione particolare che fa per esempio in parte che è stata stata fatta finata da due avvocati americani e una inglese che riguardava una diciamo un programma di intertività che doveva stabilire una segnazione di determinati incendivi adesso non mi ricordo ma i dati che erano stati inseriti facevano lì che l'autore discriminava tra le razze e quindi la mia domanda è quando voi fate questo pensate genere di programma i dati che vengono fin vengono valutati a monte oppure non viene prendo in considerazione questo fatto allora diciamo in generale i dati vengono valutati a monte nel senso che comunque per qualsiasi tipo di sviluppo che uno deve fare la qualità del dato e la tipologia del dato influenza quello che sarà l'algoritmo quindi diciamo non si non si può fare un buon esendo appunto algoritmo basati sui dati se uno ha dati di cattiva qualità farà un algoritmo di cattiva qualità cioè questo purtroppo è inevitabile l'altra punto della risposta è che noi al momento non facciamo cose che ci espongano oddio quello dell'alimentazione in realtà sì ma insomma la maggior parte dei casi non ci esponiamo a grossi rischi legali in questo caso noi dobbiamo semplicemente garantire di non dare informazioni diciamo delle persone che erano originariamente del dato quindi non siamo particolarmente esposti da quel punto di vista chiaro che chi fa guida autonoma oppure anche chi si occupa di chatbot si deve assicurare che non parta col turpilocchio o quelle leoge al nazismo questi sono sicuramente dei problemi che devono essere controllati adesso io non sono espertissimo sulle ultime tecniche per controllare questo tipo di cose però diciamo il problema si pone e si pone anche di capire dove è la responsabilità legale per esempio nella guida autonoma bisogna capire cioè è chi ha fatto lo strumento la responsabilità tipicamente sarebbe del produttore però potrebbe diventare poco pratico e qui il pubblico non è che si ha troppo il pubblico si tende a comunicare come persone di calcio e quindi vuol dire che è un progetto diverso dal produttore comunque non volevo entrare perché il problema che è il pubblico e che non si è accorto c'è diciamo poi c'è sempre poi è chiaro che c'è chi la fa meglio che ci fa un po' peggio e da lì possono derivare anche problemi sicuramente insomma fermami tu è quando mi devo formare con le domande ok nessun problema sono un saluto presidente dell'associazione che sono occupati con i problemi derivanti che devono appunto la attenzione almeno un trick potete vedere tutte le schioni dal punto di vista con le mani al momento è un problema aperto però c'è una forza che deve vedere la dell'unione europea che non sarebbe dentro la troppa altra almeno senza c'è la risposta e il problema è tutto che i giuristi è che i giuristi sono ancora molto aperti e molto difficili proprio perché c'è un problema di responsabilità capire se è responsabilizzata quindi si è fatto l'argomento di utilizzare con noi molto molto fino sono completamente aperte sono in corso che l'unione europea si sta occupando però ci vorrà un bel consenso c'è un'evoluzione è un'evoluzione continua che poi l'unione europea è una cosa che bisogna vedere io l'esempio di due cose in una certa situazione esaminata negli Stati Uniti in un altro paese in Australia e in Sudafrica riguardava un marco che per la non rivolta in maniera diversa riguardava il discorso che praticamente l'autore di un determinato predetto marco fosse chi ha soggettato se l'intelligenza artificiale potrebbe essere considerato soggetto che aveva inventato la cosa oppure no la soluzione che hanno fatto in personale da un punto di vista parato è stata che in Inghilterra e negli Stati Uniti hanno detto no ci vuole la persona fisica mentre in Australia e in Sudafrica hanno detto no può essere direttamente il programma che ha generato questo quindi mettiamo distanti in un po' è sì sono altre domande? ok grazie mille ancora allora per la presentazione e bene perfetto allora lasciamo la parola alla prossima ospite che è Martina Teruzzi grazie ok allora buona vai tranquillo ok allora buonasera a tutti innanzitutto vorrei ringraziare l'associazione per l'invito e vorrei ringraziare lo sponsor per averci permesso di essere qui e questa sera vorrei raccontarvi un po' di un percorso che ho iniziato all'interno del gruppo di matematica applicata in Sissa qui a Trieste che vede gemelli digitali come modelli di sostenibilità e di innovazione e spero vivamente che alla fine di questa conversazione questo titolo sia per voi chiaro il talk è il più divulgativo possibile chiaramente poi se avete domande potete tranquillamente fare cercherò di rispondere al meglio allora partirei dal concetto di gemello che è una cosa che tutti noi abbiamo e qui vedete più o meno tutte le parole tutte alcune che possiamo legare nella nostra testa al termine gemello le prime cose che vi vengono in mente sono le parole di un dizionario quindi potete pensare a una coppia a una copia a una cosa che è medesima che è identica a voi e magari boh chiedendo ad un amico chiedendo a qualcuno potreste immaginare di avere altre parole per esempio uno specchio dei geni un qualcosa di connesso ma prima di cominciare questo percorso sicuramente io non avrei mai legato la parola gemello alla parola digitale e spero che uscendo da questo talk voi possiate effettivamente avere questo legame allora senza volere diciamo scomodare pittori illustri cosa che lungi da me in realtà un gemello digitale è qualcosa di concettuale molto complesso e quindi spero vivamente di piano piano spiegarvi che cos'è allora quando non sappiamo che cos'è qualcosa cerchiamo su internet lo facciamo tutti e wikipedia direi che è la sorgente di tutto il nostro sapere quindi se cerchiamo wikipedia wikipedia ci dice che un gemello digitale è la rappresentazione virtuale di un'entità fisica o real asset mi verete molto spesso parlerò di real asset perché l'inglese è la lingua corrente qui quindi il real asset è semplicemente la controparte fisica del gemello digitale e può essere vivente o non vivente una persona o anche un sistema complesso quindi wikipedia vi dice più o meno tutto ok e diciamo quello che capiamo da questa definizione anche molto generica è che un gemello digitale è sicuramente una controparte virtuale di qualcosa che esiste che è vero che potete vedere che potete toccare può essere qualcosa di vivente o meno può essere una persona oppure no ora chiaramente dobbiamo dare delle caratteristiche perché messa così pare un po' generale allora deve avere delle caratteristiche questo gemello digitale e in primo luogo deve replicare la struttura dell'asset dove asset è esattamente la parte fisica che volete di cui volete fare un gemello digitale e diciamo questa cosa è abbastanza semplice da comprendere nel senso che un gemello replica la struttura di ciò a cui assomiglia fin qui replica il contesto quindi non soltanto voi dovete sapere qual è la struttura ma dovete sapere qual è l'ambiente circostante a questo gemello questo è un po' più complicato ma ci possiamo arrivare deve replicarne il comportamento deve assomigliare in tutto e per tutto a quello che è la parte fisica non solo non è qualcosa che può rimanere lì deve essere aggiornato dinamicamente tramite i dati che provengono dalla parte fisica quindi queste due parti devono sostanzialmente parlare e deve accompagnare l'asset lungo tutto il suo ciclo vitale quindi un gemello evolve così come evolve la parte fisica non solo diciamo per fare tutta questa fatica dovremmo avere qualcosa di più quindi dobbiamo suggerire delle decisioni cioè dare una mano e produrre un valore aggiunto altrimenti cosa lo facciamo a fare ora questo pareva complicato anche a me la prima volta che l'ho sentito quindi tranquilli cercherò di spiegarvi come si realizza ora come tutti i concetti complicati non è nato ieri ora lo chiamiamo digital twin ma ha avuto altri nomi in realtà diciamo le simulazioni possiamo farle partire dagli anni 70 80 e in quel tempo i modelli simulativi erano utilizzati da pionieri da persone che avevano le mani in pasta che capivano quello che stavano facendo perché parlo quindi degli anni 70 parlo degli anni 70 perché è la prima volta che fondamentalmente le simulazioni vengono utilizzate per comprendere dei fenomeni per analizzare qualcosa quindi non abbiamo più solo la carta e la penna dove segniamo c'è stato un problema ma proviamo a chiedere a una simulazione cosa succede negli anni 80 e 90 invece i computer sono sempre più di supporto sono anche dei migliori computer effettivamente al design e alla progettazione dei prodotti quindi qui vedete per esempio ora yes un CAD quindi fondamentalmente ogni oggetto ha una sua modellazione e questo viene molto utilizzato all'interno dell'industria perché ci permette di fare una serie di valutazioni quindi ci sono i primi riferimenti al digitale in generale alla simulazione per l'ottimizzazione e per il supporto delle decisioni perché è importante è importante perché non abbiamo soltanto un'analisi ma cerchiamo di dare un valore aggiunto quindi piano piano cominciamo ad arrivare al concetto di cui vi parlavo prima negli anni 2000 2010 più o meno le simulazioni sono sempre più ubique anche nell'ambito industriale in tutti i dipartimenti vengono sempre più utilizzate quindi la simulazione è integrata e più o meno presente ovunque dal 2015 in poi diciamo possiamo definire l'era del digital twin l'era del digital twin non è altro che il culmine di tutto quello che avete visto abbiamo qualcosa di presente all'interno dell'ambito produttivo che dà valore aggiunto che supporta le decisioni e che ora è dinamico e in tempo reale siamo arrivati a quello che volevamo descrivere inizialmente ora come tutti i concetti non è sempre sempre così ovvero il digital twin è in realtà la migliore realizzazione possibile ma chiaramente anche in ambito industriale non sempre riusciamo ad avere questa dinamicità questa integrazione al 100% perciò diciamo per esempio possiamo distinguere tra tre tipi di gemello un digital model un digital shadow e un digital twin cosa sono? se voi partite pensando di fare un modello digitale di un qualcosa di fisico per esempio una macchina produttiva potete farlo lo modellate assomiglia molto ma non hanno nessuno scambio tra di loro e quindi in questo caso è semplicemente un modello comunque utile c'è un altro caso c'è un caso in cui in realtà il gemello digitale prende informazioni dal gemello fisico quindi diciamo se cambia qualcosa all'interno della parte fisica questa viene aggiornata però poi il gemello digitale non riesce in tempo reale a comunicare quali sono le soluzioni da interprendere funziona come un'ombra shadow il nome lo dice la vostra ombra vi segue se voi mi muovete lei si muove in tempo reale però non vi serve un granché ovviamente un gemello invece è qualcosa di molto più interattivo e di molto più utile ora abbiamo detto che il gemello digitale è il culmine dell'interazione tra dati e modelli proviamo a vedere un po' uno un po' l'altro i dati noi parliamo di big data sentiamo il termine big data più o meno ovunque generiamo tanti dati utilizziamo tanti dati ma questi dati molto spesso noi non sappiamo nemmeno che ci sono sappiamo ma non li vediamo per poterli effettivamente utilizzare essi vanno immagazzinati processati ed organizzati ed è tutto un'altra cosa in generale gli algoritmi di intelligenza artificiale diciamo li possiamo immaginare come una scatola chiusa quindi qualcosa che entra in ingresso è qualcosa che esce in uscita è molto semplice chiaramente perdonatemi ma fondamentalmente i modelli di intelligenza artificiale sono delle relazioni tra input e output tipo scatola chiusa cosa sono i modelli invece allora sicuramente diciamo possiamo dire che già l'intelligenza artificiale può aiutarci ad identificare degli schemi utili all'interno dei nostri dati qualora li abbiamo organizzati e opportunamente gestiti però in principio i modelli di intelligenza artificiale non hanno significato fisico non sanno qual è il problema di cui noi stiamo parlando e quindi qualora l'intelligenza artificiale impari da questi dati generalizza alla fine può dedurre delle azioni ottimali da intraprendere quindi dà un valore aggiunto quindi è qualcosa che ci può essere utile ci facciamo una domanda nel frattempo i big data sono risolutivi anche in ambito industriale vedremo in realtà che non è sempre così quindi io non butterei via i nostri vecchi modelli che in realtà ci piacciono abbastanza i problemi comunque che ci troviamo ad affrontare soprattutto quando facciamo simulazioni applicate a livello industriale sono problemi reali e quindi dipendono da tantissime quantità tantissime grandezze e questo li rende dei problemi parametrici ognuna di queste grandezze può cambiare ne basta una sola cambia la configurazione e dobbiamo ripetere diciamo tutto semplificando e sono problemi complicati sono problemi non lineari multiscala multifisica difficili però abbiamo un aiuto per poter fare queste simulazioni molto complicati abbiamo dei super computer paiono quasi dei super eroi fondamentalmente sono delle macchine molto potenti capaci di processare moltissime operazioni al secondo la sissa per esempio ne ha una si chiama Ulysses e è installata a Miramare ora vi ho parlato di simulazioni intensive complicate lunghe ma vi ho detto che ci deve essere un'interazione real time tra la parte fisica e la parte digital e queste cose sembrano non avere molto senso ora per avere uno scambio continuo dobbiamo avere delle simulazioni veloci per poterlo fare dobbiamo passare da simulazioni lunghe ore giorni a simulazioni più corte più veloci per poter fare questo utilizziamo i modelli ridotti i modelli ridotti fondamentalmente creano un insieme di soluzioni molto accurate per i quali impieghiamo tantissimo tantissimo tempo e poi le metto un insieme il metterli insieme però nella fase online è molto più veloce è dell'ordine di secondi dell'ordine di minuti e quindi arriviamo a quei tempi che sono consistenti con la vita reale chiaramente e con il gemello digitale che abbiamo in mente quindi concludendo i big data non sono sempre facilmente reperibili facilmente immagazzinabili e in particolare se pensate all'ambito produttivo non sempre sono diciamo presenti ci sono magari delle condizioni in cui ne abbiamo tanti e delle condizioni in cui non ne abbiamo tuttavia abbiamo comunque dei problemi realistici descritti da molti parametri quindi anche le simulazioni diciamo nonostante i modelli ridotti possono comunque aiutarsi tramite i dati noi non buttiamo via nulla utilizziamo sia uno che l'altro e quindi integrando i big data con i modelli definiamo questi big models grandi modelli uniamo praticamente tutto e in realtà il concetto di big model se volete è molto simile al concetto di digital twin è l'unione di queste due cose volendo più o meno fare uno schemino vi direi che se non ho conoscenza del problema fisico e non ho dati branco l'abbastanza nel buio ho il mio librone di teoria ma so poco se ho una buona conoscenza del problema fisico ma pochi dati posso pensare di generare io dei numeri delle quantità delle soluzioni con un modello di simulazione al contrario se non ho una buona simulazione perché non so qual è il problema fisico ma ho tanti dati posso immaginare di generalizzare da quelli in maniera un pochino blind diciamo un pochino cieca chiaramente la cosa migliore è cercare di unire entrambe le cose perché posso avere una simulazione ma posso verificare tramite i dati se sto facendo giusto oppure no perché comprare un gemello digitale perché lo dovrei fare perché mi è utile allora sicuramente posso fare un buon design di prodotto immaginate di avere una buona simulazione un buon digital twin che vi dice come è fatto un prodotto voi potete simulare tantissime configurazioni diverse senza tutte le volte dover costruire un prototipo del vostro prodotto e doverlo testare ci mettete molto meno tempo in alcuni casi diciamo i prodotti fisici hanno una realizzazione molto complicata in alcuni casi si tratta di grandi navi potete immaginare tutte le volte pensare di creare una grande nave da zero per poi doverci fare un test sopra non è proprio velocissimo come cosa riduciamo i tempi di commercializzazione e possiamo addirittura pensare di dare il nostro valore aggiunto in questo caso quindi di avere una migliore diagnostica perché se abbiamo un buon modello di quello che stiamo facendo possiamo ipotizzare dove questo si stia rompendo dove ci stiano dei problemi e la manutenzione chiaramente ne sarà più efficiente abbiamo già parlato del fatto che con meno prototipi fisici riduciamo i costi quindi l'obiettivo è migliorare la qualità del prodotto finale non mettendoci dei secoli magari un po' meno tempo ok ora vi descriverò quattro esempi di gemello digitale giusto per rendere il tutto un po' più realistico che sono stati creati all'interno del sistema MATLAB il laboratorio di matematica applicata e sono tutti e quattro legati al concetto di sostenibilità che direi che al giorno d'oggi è qualcosa di utile e di importante parlerò di ottimizzazione di struttura di ottimizzazione di forma di riduzione di emissioni e di sostenibilità ambientale il primo progetto è un progetto che si occupa di ottimizzazione di struttura è un progetto di dottorato industriale in collaborazione con Fincantieri SPA e l'obiettivo è l'ottimizzazione strutturale delle grandi navi passeggeri siamo a Trieste non vi devo spiegare quanto questo sia importante e durante addirittura la fase di design preliminare come lo si fa? lo si fa con tecniche parametriche lo si fa con modelli di ordine ridotto con tutto quello che vi ho raccontato fino ad ora cosa riusciamo a fare? riusciamo a minimizzare le materie prime utilizzate quindi riusciamo ad utilizzare meno acciaio riusciamo ad abbassare i costi il che è sempre buono ma è anche diciamo di buon impatto a livello sostenibile e diciamo chiaramente preserviamo la stabilità strutturale dello scafo il fatto che sappiamo come funziona questo oggetto ci permette di capire se stiamo mantenendo la sua stabilità o meno non vogliamo fare un digital twin perché il prodotto sia peggiore dell'inizio altrimenti non avrebbe nessun senso la seconda è l'ottimizzazione di forma è un altro progetto industriale in collaborazione con Fincantieri e in questo caso l'obiettivo del progetto è l'ottimizzazione di una forma complessa quale lo scafo della nave in realtà la parte davanti si chiama bulbo e anche in questo caso utilizziamo modelli di ordine ridotto qual è l'obiettivo? l'obiettivo è trovare la forma più efficiente la forma migliore in questo caso avremo sostanzialmente meno consumo di carburante l'armatore sarà sicuramente felice ma lo sarà anche l'ambiente e ridurremo l'inquinamento direi che è una vincita per entrambi il terzo progetto è un progetto si chiama progetto Shams in collaborazione con Varsila Italia e l'obiettivo è la riduzione dei consumi dei motori delle grandi navi con tecniche di machine learning e tecniche di ottimizzazione anche in questo caso cerchiamo di fare un gemello di come funziona questo motore se sappiamo come funziona possiamo pensare di cambiare dei parametri e vedere se miglioriamo la situazione in termini di emissioni o meno chiaramente sappiamo in che direzione possiamo andare in che direzione non possiamo andare il motore deve comunque funzionare e diciamo cerchiamo di utilizzare meno carburante possibile e più energia verde quindi magari abbiamo non lo so dell'energia proveniente da batterie in alcuni casi se abbiamo quella cerchiamo di utilizzare quella piuttosto che il carburante in questa maniera riduciamo le emissioni nocive in atmosfera anche in questo caso la sostenibilità vince infine ultimo ma non ultimo un progetto in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale e l'obiettivo è il controllo degli agenti inquinanti nel golfo di Trieste anche qui sfruttando modelli parametrici e modelli di ordine ridotto quello che vedete qui è sostanzialmente il controllo degli agenti inquinanti dove vedete rosso rosso vuol dire male ci sono tanti agenti inquinanti e il golfo non è molto salvo quello che riusciamo a fare chiaramente diciamo nella parte sopra abbiamo il caso non controllato nella parte sotto abbiamo il caso controllato nel caso controllato vedete che la parte rossa diciamo è diminuita quindi vuol dire che abbiamo controllato la quantità di agenti inquinanti perché è utile questo? beh sicuramente per la flora e per la fauna non vi devo spiegare io che a Trieste abbiamo un'area marina protetta però questa cosa è utile a tutti noi perché chiaramente anche noi viviamo a Trieste anche noi facciamo parte di questo ecosistema ci tengo soltanto a dire che ho raccontato una storia che è stata scritta a molte mani voi vedete il mio viso ma mi faceva piacere che vedeste tutti gli altri perché chiaramente non lavoro da sola e loro sono le facce che tutti i giorni insomma aiutano a fare tutto quello che avete visto vorrei concludere diciamo con un to be continued perché effettivamente diciamo è qualcosa che è ancora increscendo quello che stiamo facendo vi ho presentato un concetto di digital twin vi direi quasi perfetto integrato dinamico complesso ma vi ho anche detto che non sempre è così vi ho detto che è quello a cui tendiamo ma abbiamo dei modelli abbiamo delle ombre abbiamo dei twin qualche volta non possiamo sempre migliorare e quindi la strada verso la perfetta realizzazione del gemello digitale è ancora da percorrere ma nonostante noi tentiamo sempre di più di arrivare a questo concetto in realtà il gemello digitale è già più avanti perché diciamo siamo partiti da DTE digital twin purtroppo l'inglese perdonate ma ogni tanto esce digital twin di prodotto siamo partiti da questo la cosa più semplice o forse la prima che abbiamo modellizzato sono delle cose poi però adesso stiamo cercando di modellizzare dei processi immaginate dei processi produttivi all'interno di un'azienda vogliamo ottimizzare un ciclo produttivo se facciamo un gemello del ciclo produttivo possiamo pensare di ottimizzare quello ora provate a sognare provate a pensare che ogni cosa in una città in un porto abbia un gemello digitale perché non farli comunicare se li facciamo comunicare possono aiutare l'uno con l'altro e chiaramente aiutando loro aiutiamo anche noi quindi possiamo avere questa città il più possibile connessa se c'è un problema da una parte possiamo comunicarlo da un'altra per esempio l'ultima frase non sapevo nemmeno se metterla perché in realtà diciamo come concetto può veramente fare paura il gemello digitale umano pare una cosa dio in realtà diciamo senza pensare a cose davvero davvero strane c'è già un gruppo all'interno del sistema Atlab che si occupa di simulazioni cardiovascolari e in questo caso vanno a studiare stenosi aortiche per esempio ora non pretendo di simulare un intero essere umano domani però se riuscessimo a fare un gemello digitale di un cuore potremmo cercare di capire dove non funziona e magari essere meno invasivi nel cercare di capirlo perché la persona chiaramente che ha questo problema potrebbe essere felice diciamo quindi questo potrebbe essere un primo esempio però chi vivrà vedrà grazie ok adesso concludiamo questa presentazione con l'ultimo ospite è un piacere presentarvi il professor Giulio Caravagna Caravaglia che è un professore all'università degli studi di Trieste e anche il fondatore del Cancer Data Science Lab che è un laboratorio che è aperto sempre per lo studio e la cura del cancro quindi ti lascio la parola senza pressioni buonasera a tutti spero che vediate bene grazie ragazzi per avermi invitato sono molto contento che si spenda un po' di energia per fare divulgazione in un momento in cui la scienza è entrata ancora di più nella società con tutto quello che abbiamo passato e poi tutta una serie di dibattiti che ci sono stati quindi siccome è importante costruire dei ponti tra chi la scienza la vive un po' per lavoro un po' per passione e chi invece la utilizza come utente finale il mio laboratorio si occupa di cancro ma in questo momento non vi parlerò di questo vi parlerò di una cosa un po' più generale parlerò dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alle scienze della vita e vi spiegherò com'è che potremmo vivere per sempre non è vero non è vero allora dopo la ragazza passa con un obolo e magari allora parliamo di tre cose stasera molto brevemente la prima è perché dobbiamo parlare di intelligenza artificiale e scienze della vita che non è una cosa secondo me particolarmente scontata forse un po' più chiara dopo la presentazione di ora come concetto di digital twin applicato alla salute comunque poi vi racconto un po' di storie di successo collegandomi anche a alcune cose che sono state viste mercoledì scorso e poi chiudo con un paio di considerazioni che secondo me sono abbastanza interessanti io sto tornando indietro va avanti per sempre così la presentazione allora le scienze della vita sono uno studio della vita in ogni sua forma letteralmente in ogni sua forma passata e presente quindi anche quando studiamo non lo so le migrazioni delle popolazioni 5.000 anni fa sono tutte cose che rientrano sotto il cappello delle scienze della vita e riguardano non solamente gli uomini nel senso come gli esseri umani ma riguardano piante, animali virus, batteri qualunque organismo al microrganismo a qualcosa di macroscopico non c'è nessuna differenza e ci rientrano tutte quelle discipline che finiscono per GIA sostanzialmente biologia, ecologia zoologia non è vero però diciamo queste sono le discipline che sostanzialmente contribuiscono tanto alle scienze della vita l'intelligenza artificiale è un ospite di questo settore ma cerchiamo di renderlo un ospite importante allora la modernizzazione intesa come lo sviluppo tecnologico dovrebbe essere funzionale alla società quindi l'intelligenza artificiale e tecnologia da che punto di vista serve alla società serve sostanzialmente da due punti prospettici molto chiari da un lato il desiderio di comprendere la natura che è una cosa che noi abbiamo da centinaia di anni la fisica è la descrizione il linguaggio matematico rigoroso dei fenomeni naturali e dall'altro dal punto di vista un po' più applicativo qual è il ritorno sul nostro investimento di fare questo beh è il desiderio di vivere meglio e più a lungo perché alla fine è un punto importante o almeno per qualcuno e questi sono titoli di articoli usciti su giornali molto autorevoli New York Times Guardian Wired il piccolo che servono a farvi capire com'è che l'intelligenza artificiale sia applicata in maniera veramente disparata abbiamo applicazione dell'intelligenza artificiale alla nutrizione quindi alle scienze dell'alimentazione ma abbiamo dall'altro lato applicazione per ottimizzare i crops cioè l'agricoltura e quindi la gestione degli animali infestanti e delle malattie come l'intelligenza artificiale ci dà 5 modi per salvare wildlife quindi diciamo gli animali che vivono allo stato brado come ci può spiegare come la vita è cominciata dalla protocellula fino a quello che siamo arrivati oggi sanità digitale tutte cose che adesso sono sempre nella sezione diciamo cultura e società di una rivista moderna perché effettivamente siamo entrati a gamba tesa nelle scienze della vita uno dei motivi riguarda secondo me quella che è stata una transizione tecnologica di qualche anno fa di cui vi spiegherò qualche cosina che riguarda lo sviluppo delle tecnologie di sequenziamento voi sentite spesso parlare di DNA poi magari recentemente l'RNA avete anche scoperto ma sostanzialmente il DNA è una cosa che noi possiamo sequenziare grazie a delle tecnologie che abbiamo sviluppato no io io non c'entro niente ma che abbiamo sviluppato negli ultimi anni e vi racconterò qualcosa a riguardo un altro componente fondamentale è il processo di digitalizzazione cioè andare a prendere quello che è la vostra cartella clinica la vostra nostra cartella clinica cartacea e tramutarla in un documento digitale quando il documento diventa digitale il documento è analizzabile con delle tecniche informatiche questo l'abbiamo capito in tutte queste presentazioni questa immagine qui che non ha nessun senso che non esiste non esiste un reparto ospedaliero fatto così però ci fa vedere come per esempio noi possiamo andare a mettere insieme segnali di una specie sembra una specie di elettrocardiogramma credo perché è periodico qualcos'altro che non so che cosa è informazioni sulla genetica il DNA vedete la doppia elica che sta qua sopra qualcosa di geografico che potrebbe essere diciamo predisposizione genetica dell'individuo ma anche una serie di altri parametri e cose varie e il medico in qualche maniera se avete visto Manority Report il film quello che lui con le mani muove tutte le cose potrebbe muoversi all'interno di questa di questa cartella e stabilire con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale cosa è meglio fare nel vostro caso specifico digitalizzazione perché si digitalizza quello che prima non era digitale era analogico e soprattutto da ora in poi si rende di base digitale quello che è la misurazione l'esame clinico e questo va bene quando si ritirano i referti online sostanzialmente è un processo di digitalizzazione ora ovviamente per i più veniali c'è un'opportunità economica che è un motivo importante un catalizzatore importante dello sviluppo se voi vedete la differenza tra retail market quindi diciamo market al dettaglio dell'intelligenza artificiale nel 2021 stiamo parlando di 2.900 milioni di dollari 3 miliardi di dollari circa si parla di una crescita di qui in 7 anni a 17 miliardi quindi insomma una crescita piuttosto sostanziale queste cifre qua che vedete riportate qui 0,6 milioni quest'anno e 6 miliardi e 6 scusate 600 milioni 0,6 miliardi e 6 miliardi e 6 nel 2029 riguarda solamente l'applicazione dell'intelligenza artificiale al mercato della drug discovery cioè significa scoprire farmaci scoprire la nuova molecola che tra 30 anni di sperimentazione diventerà il nuovo farmaco generico per quella particolare patologia con l'intelligenza artificiale abbiamo delle chance di farlo meglio e magari lo proviamo a chiarire in questa presentazione quindi voglio dire ci sono tante cose che contribuiscono all'intelligenza artificiale all'applicazione dell'AI perdonate inizierò a chiamarla così se no ci metto troppo alle scienze della vita un momento importante per questa transizione diciamo è stato lo sviluppo delle tecniche di sequenziamento che sono queste tecniche che permettono di misurare il DNA noi nel 53 Watson Crick e Rosalind Franklin hanno scoperto non dell'esistenza della molecola ma della struttura a doppia elica del DNA nel 53 quindi neanche tanto tempo addietro e questa è una molecola bellissima estremamente diciamo duratura grande 3 miliardi e 200 milioni di nucleotidi che sono queste sequenze che a volte vengono chiamate indicate con la lettera A, T, C e G adenina, timina, citosina e guanina sono quelli diciamo gli elementi che compongono una molecola di DNA in una molecola di DNA ci sono 3 miliardi circa una cellula è una molecola molto potente molto interessante completamente diciamo arrotolata su se stessa e visti i numeri coinvolti i numeri li ho messi no per spaventarmi ma per darvi l'idea dopo perché ci interessano questi numeri questa è una molecola che se noi la srotolassimo sarebbe lunga due metri su una singola cellula se noi prendessimo tutte le molecole di DNA all'interno di un essere umano che c'è circa qualcosa come 10 alla 13 cellule potremmo arrivare tranquillamente a fare 150.000 volte la distanza Terra-Luna quindi nonostante sia apparentemente molto piccola contiene un sacco di informazione e la cosa sorprendente è che il 99,6% del DNA mio e suo in questa stanza sono uguali differiamo solamente per 12 milioni di nucleotidi e non solo me e lui tutti voi presi a coppia siete tutti molto simili l'uno all'altro questa è una molecola che ha fatto la storia vi racconto queste cose perché vi volevo dare un pochino di contesto e noi diciamo come società dal 90 al 2003 abbiamo condotto un mega studio che univa esperti di ingegneria chimica biologia fisica informatica per costruire queste tecniche di misurazione della molecola come spesso succede quando i progetti hanno successo lo sviluppo tecnologico anticipa poi ovviamente la riduzione dei costi sequenziare cioè leggere misurare un singolo diciamo genoma umano nel 2001 costava qualcosa come 100 milioni di dollari questa era la cifra alla fine del progetto nel 2003 stiamo parlando di qualcosa sempre sopra i 10 milioni nel 2021 22 stiamo parlando circa di 1000 dollari quindi vedete quanto il costo si è abbassato aumentano altri costi però migliora la tecnologia e quindi si spende sempre però sostanzialmente adesso lo sappiamo fare e costa sempre sempre di meno diciamo questo è il messaggio che dovete prendere quindi lo possiamo fare però quando lo facciamo cosa succede? beh noi sappiamo che una persona ha associata la sua sequenza la sua molecola di DNA diciamola così per semplicità questa è composta da questa AC, C, T, A è diversa da me a lui con un certo grado di diversità la macchina non è in grado di leggere esattamente tutte queste informazioni cioè le legge tutte ma le legge con un certo grado di precisione quindi quello che tira fuori ogni tanto sono delle situazioni in cui invece di leggere quello che doveva leggere leggere qualcosa di sbagliato quindi vuol dire che diciamo la nostra lettura è sia esaustiva ma è imperfetta cioè un qualcosa che noi chiamiamo tecnicamente rumore nella nostra misurazione noi prendiamo quindi una persona facciamo questa misurazione e abbiamo una buona approssimazione di quello che è il suo DNA notate che queste sono le cose che fate quando si sente scusate sentite quando sentite parlare della cronaca nera ho confrontato il DNA di questa persona su quest'altra persona si fanno queste cose qui si fanno ora perché i dati sono complicati i dati sono complicati perché se io voglio prendere il DNA di un'altra persona quindi abbiamo detto di prendere circa 3 miliardi di queste lettere e poi però di pazienti ne vogliamo prendere che ne so 100.000 stiamo immaginando di andare a costruire una struttura quadrata fatta così dove ci abbiamo da un lato 3 miliardi di colonne e sulle righe ci abbiamo che ne so 10.000 100.000 un milione di righe quindi la dimensione se la immaginiamo come una cosa su cui giochiamo poi una partita con l'intelligenza artificiale a forza 4 comunque a un gioco su una struttura di questo tipo è complicata anche considerando che ci sono questi errori di lettura quindi questo per rafforzare l'idea che il dato quando si parla di big data magari non è gigantesco come in altri settori comunque è grande anche in questo settore particolarmente grande riassumendo quindi cosa abbiamo visto abbiamo visto che i dati possono essere appunto grandi secondo questa diciamo definizione che vi ho dato intuitiva ma mi sembra abbastanza convincente abbiamo bisogno della capacità di elaborarli perché se non li elaboriamo li creiamo ma non li comprendiamo e quindi ovviamente è un po' una grossa perdita di tempo saranno diversi perché è vero che io ho raccontato il DNA ma ci sono tante altre cose che ci interessano mica solo l'RNA ci sono le immagini ci sono gli esami del sangue ci sono tante cose misurazioni diverse che ci danno idea su diciamo lo stato di salute se vogliamo vedere sulla salute di un individuo sappiamo che tutte queste misurazioni sono un po' imperfette e in realtà dobbiamo anche automatizzare questo processo e quindi queste sono condizioni che soddisfano particolarmente bene le caratteristiche dell'intelligenza artificiale ci aiuta in queste situazioni ci aiuta perché è forte come tecnologia in caso in cui abbiamo bisogno di queste cose quindi se vi ho convinto perché è importante sta diventando sempre più importante l'intelligenza artificiale nelle scienze della vita andiamo a vedere qualche esempietto tra tutto quale Laura la volta scorsa vi ha fatto vedere questa raffigurazione in cui vediamo da un lato la distinzione supervised non supervised learning che è stata ripresa anche stasera in maniera molto chiara e poi reinforcement learning quello che si fa spesso nel settore delle scienze della vita sono prevalentemente apprendimento senza supervisione e con supervisione vi ricordate il quiz che ha fatto Laura la volta scorsa bellissimo geniale fantastico ci sono delle operazioni ci sono dei numeri anzi ci sono dei numeri c'è un punto interrogativo e vi chiedeva che operazione è matematica quel punto interrogativo lì e se uno si ricorda diciamo dalle tabelline in questo caso poteva dedurre che la somma era l'operazione giusta e nel nostro contesto è un po' più complicato perché non abbiamo a disposizione diciamo lavoriamo su un mondo un po' più astratto la cellula o quello che può essere insomma il DNA una cosa un po' più complicata quindi non posso fare questi giochini mi dispiace voglio solo scusarmi di questo la cosa però interessante che ci porta anche al concetto di supervisionato o non supervisionato in generale di quanti dati dobbiamo avere per fare la nostra intelligenza artificiale nel contesto della salute in generale vorrei far notare spezzare una lancia a favore il fatto che è un po' più difficile che in altri contesti perché se io prendo i tre social media più in voga nel momento stiamo parlando di numeri di immagini per esempio per fare riconoscimento di immagini che sono una cosa tipo 350 milioni di nuove immagini al giorno su facebook 350 milioni su twitter stiamo parlando di 6.000 tweet al secondo se io voglio analizzare testi e fare quella che noi chiamiamo sentiment analysis ho a disposizione un corpus cioè una collezione di testi che cresce in una maniera vergognosa io non ho per fortuna 250 miliardi di pazienti che hanno una certa malattia perché se no sarebbe un continuo dentro fuori dall'ospedale e quindi diciamo creare il training set come è stato chiamato l'insieme di apprendimento nel contesto delle scienze della vita è un po' più difficile soprattutto perché io non metto vedetela così io su facebook carico la mia immagine le foto mie delle vacanze e io regalo il mio dato a facebook invece l'esame clinico lo pago e quindi insomma non è che funziona proprio così alla stessa maniera perciò c'è una differenza abbiamo un po' meno dati che in altri settori adesso vi racconto un esempio di successo disarmante vorrei dire sulle proteine 96-97 avete mi è stato raccontato dei Deep Blue qualcuno di voi un po' più stagionato si ricorderà avrà visto in prima persona Deep Blue contro Gary Kasparov il primo esempio di intelligenza artificiale che batte il campione del mondo di scacchi con un po' di polemiche ma insomma vince poco da fare vince 2016-17 Alpha Go questa forse vi è passata un po' più in sordina perché Go non è proprio un gioco che utilizziamo tanto diciamo è un po' più orientale è molto più complicato degli scacchi perché la configurazione che la scacchiera può avere sono molte di più quindi è più difficile diciamo era impossibile risolverlo con la tecnologia del 96-97 stracciato in maniera miserabile il campione del mondo che si è ritirato la stessa tecnologia è entrata in qualche maniera a gamba tesa su un altro problema che vi racconto stasera intelligenza artificiale per il ripiegamento delle proteine questa che vedete qua è una proteina che ormai avete conosciuto tutti è la proteina Spike 2 del Covid quindi una proteina è una roba fatta così bellissima da vedere disegnata in questa maniera tridimensionale con tutta una serie di colori che hanno un significato è una delle unità fondamentali della vita tutto quello che tutto quello diciamo che avviene il rilassamento di un muscolo un segnale chimico e tutto viene fatto diciamo veicolato dalle proteine sono costruite a partire dal DNA e sono quindi importantissime per le malattie sia malattie che riguardano un singolo gene una malattia genetica rara ma sia anche malattie più complicate come malattie diciamo multigeniche come il cancro sono fondamentalmente legate a disregolazioni delle proteine la cosa bella di questo oggetto è che la forma tridimensionale determina la funzionalità come un lego io gioco al lego ho certi mattoncini a seconda del mattoncino a tetris posso fare un certo tipo di funzionalità quindi la forma 3D determina la funzionalità perciò la forma è importante come nascono beh queste cose così è almeno un po' più visiva la spiegazione la forma della proteina nasce diciamo partendo dalla sequenza di DNA la sequenza di DNA è questa cosa che abbiamo visto prima e in realtà la possiamo vedere come è caratterizzata da una stringa di una sequenza di 20 possibili amminoacidi che sono una variazione sul tema per non rendere le cose troppo complicate che si piegano in una certa maniera scusate che è spezzata in tre video si piegano in una certa maniera quindi vedete che questo processo di diciamo di folding fold vuol dire piegare porta alla forma della proteina e ci sono proteine di tutte le forme a fusillo pallone da calcio e e questa altra cosa qua e come dicevo la forma determina la funzionalità il problema di folding è il problema di stabilire come una proteina si forma data la sua sequenza iniziale diciamo che noi la possiamo affrontare con un computer simulando tutte queste strutture partendo dalla sequenza di amminoacidi oppure in maniera un po' più diciamo di basso livello facendolo usando cristallografie guardando la posizione degli atomi ma la cosa che ci interessa è farlo a partire da dati genetici quindi dalla sequenza da quella sequenza che vi dicevo prima della misura del DNA e farlo per tante specie quindi questo è l'obiettivo di questo problema è un problema molto interessante molto bello e che conosciamo da 5 a 50 anni senza saperlo risolvere più o meno da quando abbiamo capito come funziona il giochino sperimentalmente sperimentalmente ci vogliono delle persone molto brave che lavorano per almeno un anno e spendono circa 100 mila dollari per costruire la struttura di una proteina quindi voglio dire è un evento è una cosa che richiede tempo competenze e soldi ci sono circa 200 milioni di proteine non le possiamo fare a mano non è possibile non ne conosciamo circa lo 0,1% come si fa? com'è che si piegano ste proteine? io non sono questa è un'area diversa dal mio pane quotidiano però ve la spiego in una maniera molto semplice come si formano? si formano perché questi aminoacidi si piegano interagendo in maniera locale per formare delle sottoforme che sono queste eliche e il foglietto e poi si piegano in maniera più macroscopica per andare a fare proprio la struttura funzionale della proteina e questo che vedete qui è una sorta di simulazione fatta al computer di una proteina che parte in forma diciamo srotolata e piano piano si va a piegare e si forma in una maniera bella compatta questa cosa che vedete qui sulla destra invece in realtà il concetto di energia necessaria a mantenere la forma la natura è una cosa intelligentissima che va immediatamente nella configurazione in cui ci vuole meno energia per mantenere la proteina quindi la situazione più stabile e la proteina fa questa cosa qui in pochi minuti pochi secondi a volte insomma ci sono tempi caratteristici ma insomma è una cosa estremamente efficiente noi uomini non lo sappiamo fare però facciamo le gare a chi inventa il metodo migliore per determinare la struttura data alla sequenza e questa è una gara molto famosa che si chiama CASP ogni due anni dal 2014 in cui vedete questa è la misura diciamo di risultato la performance dalla migliore tecnologia utilizzata dall'uomo vedete 40% di performance abbastanza diciamo bene ma non benissimo diremmo ecco da questo punto di vista quelli di DeepMind che avevano fatto AlphaGo hanno preso delle tecniche simili hanno imparato con apprendimento supervisionato su circa 100.000 proteine di cui la struttura era nota e hanno fatto il training come si dice di una rete neurale fatta particolare ovviamente specifica per questo problema per imparare come predire questa struttura quello che vedete qui è in questa gif un po' più moderna non è altro che una discesa del gradiente come si chiama nello spazio delle strutture per determinare la struttura migliore vedete che i risultati sono sorprendenti 99,09% di consistenza fra quello che deve essere misurato quello che viene smurato sperimentalmente e quello che predice questa tecnologia quando sono arrivati a fare la competizione con gli uomini prima con AlphaFold con gli uomini perché sono anche loro uomini non è che però diciamo con quelli che non utilizzavano queste tecnologie con AlphaFold 1 e 2 quello che è successo è che la performance è cresciuta in maniera vergognosa siamo arrivati a una precisione del 90% che è simile alla precisione sperimentale cosa significa? su strutture mai viste ci tengo come prima il collega diceva ti do una nuova figura e mi devi classificare che è un cane qua ti do una nuova sequenza tu mi dici come si forma in 3D e io poi te la controllo e ti dico se l'hai fatta bene o l'hai fatta male molto semplicemente a cosa ci serve questa roba qua? beh ci serve perché noi ora possiamo studiare per esempio l'impatto che hanno le mutazioni sulla molecola del DNA rispetto alla struttura quando sentite parlare di Omicron che ha le mutazioni ci possiamo chiedere ma queste mutazioni nuove che ha Omicron che cosa fanno rispetto alla proteina che mi interessa perché lo voglio fare? perché se una certa mutazione fa sì che la proteina si formi in maniera diversa quello che io posso fare è chiedermi ma se io ho sviluppato un vaccino che si collega a quella proteina in quella maniera in quel punto lì questa cosa funziona ancora oppure no? io questa cosa la posso fare in un computer magari molto grande senza cercare di farlo in maniere diverse spendendoci quantità di tempo incompatibili con anche l'urgenza di sapere questa risposta vedete no? computer veloce risposta veloce e poi in generale quello che posso anche fare è giocare a quello che ci piace cioè inventare cose che non esistono fare la cosiddetta biologia sintetica costruire organismi che hanno comportamenti quindi che hanno proteine che sono diverse da quelle che noi diciamo vogliamo ma che si comportano in una maniera che a noi ci serve per qualche motivo possiamo farci qualunque cosa dal punto di vista diciamo medico in generale possiamo farci biocombustibili possiamo farci ottimizzare cibo e agricoltura possiamo farci virtualmente tutto il non poter calcolare le strutture in maniera rapida era fondamentalmente un collo di bottiglia che in questo momento stiamo superando molto meglio di quello che potevamo fare prima ci sono degli altri esempi uscendo da questo mondo per farvi vedere le cose ancora più tangibili in quella che si chiama la cosiddetta patologia digitale cioè andare a prendere un esame che ha un output grafico quindi che ne so una mammografia in questo caso e si può utilizzare l'intelligenza artificiale per predire se dato un esame oggi entro cinque anni tu hai una certa probabilità di sviluppare un tumore al seno oppure no questa cosa mi serve mi serve per andare a determinare quali sono quelle donne che devono essere attenzionate in una maniera diretta come quando si fanno screening familiali per patologie che hanno una componente di tipo diciamo ereditario probabilmente e questa è una cosa che va molto oltre la diagnostica classica basata su età familiarità e cose varie perché qui si sta parlando di prendere un'immagine realizzata a risoluzione altissima e far guardare a un computer queste immagini che per un uomo normale magari possono anche essere non facilmente identificabili e si tratta di capire quei microscopici segnali che una volta che io ho imparato a distinguere in questo caso da 90.000 mammografie pazienti che hanno sviluppato da pazienti che non hanno sviluppato la patologia che mi interessa il computer è in grado di fare lo stesso su un paziente nuovo cosa simile sulle radiografie per malattie toraciche tubercolosi tumore al polmone covid diagnosi di covid da una famosa polmonite bilaterale tumore per esempio tumore che è una cosa che noi facciamo cui lavoriamo di più da tessuto io faccio questa cosa che vedete non è altro che un pezzo di tessuto dove queste colorazioni corrispondono a cellule di tipo diverso e quello che io faccio è vado a studiare la composizione cellulare grazie all'intelligenza artificiale perché lo faccio con l'intelligenza artificiale perché se io prendo una cosa del genere e vi dico guardate questa roba cosa fa questa cellula che cellula è che cosa fa che cosa non fa è molto difficile farla d'occhio perché in un'immagine del genere guardate quante ce ne sono e ce ne sono anche di più o nell'immagine precedente il computer lavora 24 ore al giorno 7 giorni su 7 e non ha un sindacato alle spalle quindi può può fare tutto quello che io gli voglio far fare in questo caso per esempio riconoscere particolari tipi cellulari in una determinata immagine che magari sono indicativi di qualcosa per esempio questo è un esempio di un mio caro amico si può andare a vedere se un paziente viene trattato con alcune farmaci di diciamo nuova generazione nel caso di tumore al polmone la presenza di certe cellule che vedete qui queste violettina qua giù che qua non sembra che ci siano è predittore della risposta al particolare tipo di farmaco quindi è importante perché da un'immagine diciamo catturata oggi io posso stabilire qual è il miglior protocollo terapeutico per il paziente perché è importante è importante perché tante volte noi abbiamo una chance terapeutica una sola e quella chance lì dobbiamo giocarcela bene non esiste in certi contesti fare trial and error provare fallire e riprovare o quantomeno si può fare poche volte quindi qualunque strumentazione ci permette di scegliere in maniera più informata come fare quello che vogliamo fare ci aiuta poi possiamo andare a mettere insieme immagini e dati molecolari quelli che vi dicevo prima e quindi immaginate che confusione può venire ora ci sono altre applicazioni che salto perché non è importante ma mi sposto ad un ragionamento finale possiamo automatizzare la diagnostica ed il trattamento usando solamente l'intelligenza artificiale possiamo eliminare i dottori questa è la domanda la risposta non è sì la risposta è no e possiamo in realtà costruire sistemi di supporto alle decisioni che sono fondamentali per rendere più facile la vita a quelli che sono i nostri dottori se vogliamo parlare di salute questo lo possiamo fare questo lo dobbiamo fare ora parliamo del costo di un errore io vado in vacanza quest'estate spero e posto una foto su facebook e invece del mio volto viene scritto che non lo so sono Bruce Willis nonostante la mia compagna possa essere lusingata questo è un errore però non è un errore tanto diciamo grave no è un errore che ci può stare ora immaginate invece se io sbaglio una diagnosi e faccio una predizione che comporta magari un'azione molto più complicata in realtà uno potrebbe dire beh ma anche il medico sbaglia è vero che anche il medico sbaglia però ci sono problemi molto diciamo collegati a quello che veniva detto prima io devo sapere perché c'è stato un errore io devo essere in grado di spiegare perché la mia nuova Tesla che guida da sola mi ha fatto finire a barcola invece di portarmi a casa cioè ci deve essere un responsabile di quello che succede non è sempre facile aprire la scatola nera dell'intelligenza artificiale e identificare chi è il responsabile dell'errore qui sto parlando quindi di un ragionamento di explainability come è stata menzionata mercoledì scorso immaginate soprattutto nel settore della salute una persona riceve una diagnosi di un certo tipo può essere anche sbagliata però bisogna capire come mai la diagnosi era sbagliata almeno anche a posteriori quando scopriamo che la diagnosi era sbagliata e quindi è un settore molto delicato perché non si tratta di mettere la faccia sulle vacanze e le foto non si tratta di si tratta di prendere delle decisioni che possono essere molto importanti e qua ci si collega su una domanda che ha fatto un signore precedentemente questo esempio che può far sorridere in cui un volto diciamo che ha un fenotipo particolare quindi un occhio particolarmente allungato viene frainteso come un volto che sta facendo un'espressione è legato al cosiddetto bias nel training set come ha chiesto lei prima cioè il fatto che io abbia identificato che un comportamento che io volevo riconoscere con la macchina è in realtà una caratteristica di un sottogruppo di persone porta la macchina a fraintendere quel sottogruppo di persone come allegate a quel tipo di comportamento noi dal punto di vista della salute non possiamo correre il rischio del genere perché il tumore al colon del caucasico è diverso dal tumore al colon dell'asiatico o così via e patologie anche più complicate quindi noi dobbiamo essere molto sicuri in questo contesto che riduciamo al minimo la possibilità del bias e in caso di errore siamo in grado di comprendere come mai c'è stato un errore concludo dicendo quindi che i dottori prima o poi eventually adotteranno l'intelligenza artificiale come partner nel loro lavoro per forza perché è troppo comoda questo livello di conoscenza medica serve sostanzialmente anche a livellare le differenze perché è una tecnologia che una volta costruita la si può distribuire in posti diversi anche senza strutture particolarmente avvenieristiche e questa è una cosa bella perché livella le differenze tra un posto molto ricco e un posto molto meno ricco per esempio questo ci permette e permette ai medici anche di focalizzarsi sulla creazione di un rapporto più umano col paziente se lavoriamo da questo punto di vista e utilizziamo lo strumento come tale uno strumento di supporto alle decisioni che permette di aiutare parte del processo diagnostico e permette quindi di focalizzarsi più sull'aspetto umano grazie domande sì sì se sì ho capito la tua domanda il processo di sintesi di una proteina è un progetto soggetto ad errori e la proteina che ha degli errori magari non si folda correttamente non si piega correttamente viene anche scartata nel momento in cui si fa l'apprendimento di una rete però io gli do i buoni esempi cioè io gli insegno come quella proteina si deve formare normalmente capito quindi è come dire in un riconoscimento di immagini io ti do delle coppie foto cane poi posso anche darti delle coppie con l'etichetta sbagliata a volte lo posso fare però in generale il grosso dell'apprendimento si fa per esempi corretti non per esempi sbagliati però non confondiamoci perché un conto è l'errore che fa la natura quando prea la proteina in quel caso particolare un conto è la macchina quando riconosce la proteina sono due errori diversi nonostante si chiamino errori sono due errori diversi sì sì ma lì indietro mi dispiace erano diciamo in quel caso lì sono errori in cui tu predici la posizione di certi aspetti della proteina che non sono consistenti la ground truth qua è fatta con cristallografia quindi dove vedi gli atomi quando cristallizzi la proteina e fai un errore fai un errore di predizione però è sempre così perché se io prendo se io caricassi su facebook centomila immagini di me qualcuna sarebbe sbagliata quindi è un errore che si paga e si può anche pagare probabilmente chi vuole vivere per sempre come? c'è un sacco di investimento anche sul regeneration dicono gli inglesi come si torna giovani Benjamin Button con l'intelligenza artificiale ma sì perché tante patologie sono legate all'invecchiamento io io mi occupo di costruzione di alcune di queste tecniche che ci servono per analizzare il DNA quindi quella molecola che abbiamo visto prima dal punto di vista dei tumori e quindi ci permettono di comprendere come mai un tumore si sta sviluppando in una certa maniera da un punto di vista temporale e in caso di trattamento quindi di farmaco no? come mai rispondi o non rispondi quindi caratterizzazione di dinamiche della malattia e poi sono tutte cose che ci servono per predire poi qual è il migliore trattamento che si potrebbe dare ad un paziente che si presenta oggi in una clinica e ha un certo diciamo conformazione del DNA costruiamo l'intelligenza artificiale per quello sì ma questo allora sì questo questo che ho postato è un è un un esempio di una non sto andando alla rovescia scusi questo che ho messo qui è un esempio di un lavoro del 2019 dell'MIT quindi presumo a Boston ma anche in Italia stiamo lavorando per la costruzione di sistemi di questo tipo c'è da dire una cosa ovviamente perché una tecnologia entra in clinica ci sono diversi livelli di trial clinico livello 1 quindi ci vuole tanto tempo però siamo agli albori ci sono anche delle cose da risolvere questo concetto di entrare dentro la macchina e comprendere perché sbaglia quando sbaglia è una cosa imprescindibile per un'applicazione su larga scala quindi non saprei dirle dove sinceramente in che senso scusi questa cosa qua te la prediva di via 5 anni perché probabilmente perché se tu vuoi imparare a predire nel futuro prendi pazienti che hanno diciamo un'osservazione temporale su una scala di 5 anni e probabilmente poi cosa subentra subentra anche il fatto che predire una cosa da una scala da 0 a un mese non mi serve a niente giusto? perché 5 anni c'è un tempo di recupero dell'esame gli esami vengono fatti una volta all'anno una mammografia immagino e allora magari 5 anni può aver senso come orizzonte predittivo esatto esatto predire di cosa succede qui a 30 anni bah però per esempio se fossi un assicuratore potrei essere interessato per l'analisi dell'errore in che senso? che tipo di errore? ma io a livello di explainability non è che abbia visto ancora delle cose particolarmente soddisfacenti soprattutto per certi modelli diciamo che secondo me stiamo progressi cioè da un lato il gradiente dello sviluppo di modelli complicati è molto più veloce del gradiente con cui impariamo come mai non funzionano quelli semplici quindi ci vuole ancora un po' di tempo secondo me perciò quello che tu vuoi fare farai dei training con le cross validation queste cose qua per minimizzare però sostanzialmente ecco però ecco finché non fai anche quello che in inglese chiamano il deployment su scala clinica a un ospedale gigantesco e scopri quanti errori fai ancora non lo vedi no? quindi insomma però stiamo entrando in questa direzione la direzione è questa quando voi comprate il vostro bracciolettino al polso che vi misura tutto quello che fate come state il battito cardiaco quello che mangiate le calorie i passi che fate sono tutte informazioni che un giorno verranno utilizzate per costruire il gemello digitale vostro da un certo punto di vista è vero stiamo andando in quella direzione quanto tempo ci vuole non lo so grazie grazie ancora ok quindi grazie ancora ai nostri tre ospiti per le stupende presentazioni che hanno fatto e bene quindi ci vediamo per l'ultimo incontro tra due settimane sempre di mercoledì sempre al caffè degli specchi e la prossima volta parleremo di applicazioni umanistiche all'intelligenza artificiale e vi consiglio caldamente di registrarvi il prima possibile perché questa volta abbiamo esaurito i posti dieci giorni fa quindi ormai sta diventando una cosa abbastanza popolare quindi consiglio di registrarsi soprattutto se siete interessati l'ultimissimissimissima cosa è che se volete potete visto che siamo un'associazione di volontariato diciamo che c'è una possibilità assolutamente senza nessun vincolo né niente di poter fare un'offerta se volete la fate alla ragazza che prima Silvia che prima è venuta a raccogliere ah no scherzavo ah ok allora Marco che è il ragazzo che vedete vestito di rosso di bordeaux e nero e quindi se volete insomma però assolutamente libero c'è nessun problema però registratevi per la prossima volta quello è necessario e importante quindi grazie a voi per essere venuti e buona serata grazie